Eccoci qua, dopo tanti anni si ritorna alla motocicletta, la Gina è quasi pronta, è un'emozione, il primo giro questo, beh, ho fatto benzina, non è un giro quello, mi ero proprio fatto un po', il giro dell'isolato solo, questo è il mio primo giro. Ok, presento la Gina, eccola qua, la Gina è pronta, siamo pronti, adesso vi testo e vediamo cosa succede, le emozioni della partenza, a dopo. Ok, io sono pronta, la Gina è accesa, si va. Devo dire che è una godoria. Sono passati, penso mai, eh, una decina d'anni. Adesso facciamo un bel giretto, vediamo come si comporta la Gina e come mi comporto io. Adesso facciamo un bel giretto, vediamo, 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 vediamo. Bene, la Gina ci ha portato fino qua. Superga, la giornata è buona, c'è un po' di gente e adesso ritorniamo giù. E beh, dopo tanti anni è spettacolo. Bene, il giro con la Gina è finito, è stata una bella emozione, tra tanto non mi succederà di provare questa emozione qua. Abbiamo fatto, boh, sui 180 km circa, stamattina abbiamo fatto Chieri, Superga, poi pieno Bocchieri, sento attraverso Pecetto e casa. Oggi pomeriggio abbiamo fatto Giaveno, siamo andati su la Sagra di San Michene, siamo tornati giù a Rigoli e adesso a casa. La Gina sta bene, è bella calda. Bene. Dov'è? Ok. Ciao. Ciao. Grazie a tutti